Il mare continuerà a essere in crocio di storia di marinai e pescatori, migranti e viaggiatori solo se il suo ambiente sarà preservato dai pericoli della plastica. Ne ha convinto Alessandro Botti, presidente dell'Associazione Ambiente Mare Italia, che, in occasione della Giornata Nazionale del Mare, l'11 aprile, ha omaggiato Fabrizio De Andrè con un concerto-evento organizzato all'Auditorium del Museo Nazionale Maxi a Roma in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Sala al completo per Neri Marco Re ed Edoardo De Angelis, che, nel ventennale della scomparsa del cantautore genovese, hanno interpretato alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui Le Aciughe Fanno il Pallone, Il Pescatore e Creusa Demà, accompagnati da Domenico Mario Renzi, Alessandro Patti, Simone Federicuccio Talone e Fabrizio Guarino. Ambiente Mare Italia ha deciso di dedicare in questa giornata di festa nazionale, la Giornata Nazionale del Mare, un concerto sulle canzoni di mare del nostro compianto cantautore Fabrizio De Andrè nel ventennale della morte per sensibilizzare ancora una volta i nostri amici e, in genere, la pubblica opinione su un problema, il problema dell'inquinamento del mare da materiale plastico. Dopo la serata che abbiamo fatto il 22 dicembre in compagnia del nostro amico Peppe Vesticchio, in cui abbiamo presentato il progetto Libera e Mediata Plastica, oggi possiamo già fare una prima valutazione di come il progetto sta andando avanti. Ogni settimana noi pubblichiamo molte notizie contenenti le buone pratiche per ridurre l'uso della plastica sia nei processi produttivi che nei processi istituzionali, nelle istituzioni e geolocalizziamo, ormai sono circa 500, le realtà istituzionali e imprenditoriali che sono state geolocalizzate nella prima mappa dell'ecostosostenibilità che rappresenta la responsabilità in Italia nei confronti di questo problema. Sono veramente un sostenitore di qualsiasi campagna no plastic, mi sono già esposto varie volte da questo punto di vista e ricordo anche uno spettacolo con la regia di Giorgio Gallione che si chiama Quello che non ho, che abbiamo messo in scena negli ultimi 4 anni, abbiamo iniziato 4 anni fa, fino all'anno scorso, nel quale un grande paragrafo riguardava proprio l'isola di plastica di 700 milioni di chilometri quadrati che sta al largo delle Hawaii, lo chiamano il sesto continente e tanta gente nel corso dello spettacolo poi alla fine si stupiva del fatto che ci fosse questa cosa, questo disastro ambientale. Disastro ambientale che trova nei numeri la sua tragica conferma. Sono infatti 150 milioni di tonnellate i rifiuti in plastica dispersi oggi in mari e oceani, 700 le specie marine a rischio, 322 milioni le tonnellate di plastica prodotte ogni anno nel mondo, di cui solo il 9% viene recuperato. Riduzione, recupero, riciclo e riuso sono le 4 R per invertire questa tendenza, secondo Botti che ne ha aggiunto una quinta, ricerca. C'è bisogno dell'impegno di tutti, c'è bisogno dell'impegno anche di Ambiente Mare Italia che è a fianco delle istituzioni e sicuramente potrà fornire un contributo assoluto di valore. Noi cerchiamo anche nei giovani, oggi è la giornata anche della cultura del mare, quindi si deve seminare nei giovani una cultura diversa di approccio al mare, di una cultura di sostenibilità, la plastica può essere un mostro, però della plastica non si può fare a meno e quindi in qualche modo bisogna imparare a usarla nella maniera più corretta e soprattutto a tenerla il più possibile lontana dal mare. Questa iniziativa fa parte del nostro protocollo di intesa che abbiamo appena siglato tra Commissione Europea e Associazione Ambiente Mare Italia per quella che è una priorità assoluta per l'Europa che è la lotta alla plastica e in particolare anche la plastica nei mari. L'Europa è in realtà in avanguardia da questo punto di vista, ma non basta, è importante sensibilizzare, chiaramente cambiare i comportamenti, far conoscere gli studenti e i cittadini quello che va fatto per lottare contro la plastica e quindi queste azioni di sensibilizzazione, ma anche un investimento di più di 100 milioni di Euro con un progetto che andrà a quantificare i dati della plastica nel Mediterraneo.